Da più fastidio aver preso il secondo gol subito all'inizio di presa, che però andremo a analizzare, però nel compenso tutta la partita credo che l'Atalanta abbia fatto sia partita bene, sapevamo che il Torino ci poteva attaccare forte, abbiamo reagito e abbiamo avuto anche tante occasioni per poter segnare, non ci siamo riusciti, però usciamo da qua secondo me, dal mio punto di vista, in maniera positiva, perché questi passaggi servono, perché noi abbiamo fatto grandi cose fino adesso, abbiamo passato dei momenti delicati, ora stiamo vivendo dei momenti altrettanto importanti che bisognerà rimanere tranquilli, essere sereni, lavorare e cercare di portare a casa un risultato positivo sia in campionato che in Coppa Italia. Su un tiro, diciamo una carambola, su una respinta nostra, andata su piedi di un giocatore, hanno fatto gol. E quindi siamo anche un po' sfortunati sotto questo punto di vista qua, però, ripeto, non c'è da abbassare la testa, c'è solamente da lavorare, analizzare dove abbiamo sbagliato, perché sicuramente se abbiamo perso qualche errore l'abbiamo commesso, però, ripeto, bisogna rimanere sereni perché la squadra è giovane, c'è ancora tanto tempo per poter rimediare, siamo tutte lì, quindi lo sapevamo sin dall'inizio del campionato che ci giocavamo le carte con 4-5 squadre. Ci sono anche squadre che si abbassano, ti lasciano poco giocare, il Torino è una squadra fisica, è una squadra che si compatta molto davanti all'area di rigore, specialmente il secondo tempo, e ha fatto tutto il secondo tempo di ripartenza. Noi è normale che dovevamo rischiare qualcosina, però alla fine è la partita che ci poteva stare, che avevamo immaginato. Sapevamo benissimo che tra tre giorni giochiamo a Firenze, è una partita importantissima, però bisognava pensare anche al Torino perché è una squadra che sicuramente darà filo da torcere fino alla fine e ci penseremo da domani, è normale che adesso c'è un po' di delusione, è da tanto che aspettiamo questa partita, la città, i giocatori, la società, quindi c'è un po' di adrenalina, è normale che il pensiero va anche alla partita di mercoledì, però oggi secondo me non c'entra niente la sconfitta.